dunque allora siccome dovrò aver fatto l'intro ormai non sono più abituata a registrare quindi buona mi sono messa proprio alla bene meglio così alla è alla dio bono per cercare di riuscire a girare dunque non riesco ancora siamo a settembre avevo detto a settembre giravo e quindi mi sono messa detto oggi c'ho da fare un trucco un po così mi registro però bimbe a casa mia non ci arrivano le linee noi siamo in apertissima campagna e quindi ora vedrò un attimino come fare innanzitutto cercherò di registrare poi vabbè i primi tempi andrò a casa dei miei a metterla però dovete continuare ad avere pazienza perché del resto non posso fa in su e in giù andrà a mette video quindi cercherò di fare del mio meglio allora base proprio così alla usci usci sappiate che dovrò andare a prendere i prodotti perché qui non c'ho una postazione io quindi se tutto va bene riuscirò a farla un giorno però purtroppo questa comunque una casa di passaggio quindi poi comunque vi racconterò il tutto dunque mettiamo un po di primer offra e siccome c'è i pantaloni con i fiori cosa che da me non è da tutti i giorni facciamo un trucco un po tipo sul rosetto rossiccio così non ho naturalmente tutti i miei trucchi ma queste sono tutte cose che poi vi dirò quindi adesso cercherò di dirvi 4 5 cose veloci mi siete mancate mi mancate ho perso l'abitudine a fare video quindi mi sembra di essere ancora più idiota sta davanti alla telecamera allora non riesco più a mettermi le ciglia finte questa è già una tragedia non so perché ma non ci riesco quindi ultimamente mi sto mettendo con i mascara quelli yo yo per cercare di fare dunque la palettina quella famosa che vi ricordavate ce l'avevo è quella è finita e l'ho ricomprata la ricomprate un po fa e pigliamo tipo questo marrone caramello che è bello anche quello di ma io adesso non ce li ho tutti questi capelli si sono allungati ma sono una tragedia che non vedo dio nemmeno e e famo un po di io così io bimbe non lo so che dirvi guardate mi mi siete mancate mi mancate tanto però ho perso veramente l'abitudine di girare video e quindi una cosa abbastanza grave io vedo che persone si sono stra stra oramai sono diventate vero però è quello che volevano l'hanno raggiunto io sono contenta per loro però io non sono così anzi purtroppo non posso neanche più aprire la mail quella che avevo per le cose commerciali di youtube comunque collaborazioni eccetera qualcosa avevo fatto di collaborazioni ma non l'ho potute fare perché appunto la situazione era questa e quindi va buono e qui si sta bene devo dire in campagna io ci sto bene poi è un bel posticino però è comunque una cosa una una pasa sono sempre invalida come sempre una casa passeggera questa non solo è zero quindi la tragedia allora è due mesi che non compro niente compro proprio una miseria tipo d'umatite essenzio mio dio e mi manca comprare di brutto allora io c'avevo un violetto era un po più chiaro però adesso trova l'azio e trova l'azio e quindi mora vediamo se la trovo qui così perché mi sembrava di averci questo qui della tipo violetto ora poi mi organizzerò meglio e cercherò di mettere ciò che mi serve tutto insieme però va buono questo qui è della tipo ed è uno di perusini vi ricordavate questi e questo qui è il metal shine e shadow03 questo ed è un viola ora io prendo con un pennellazzo perché purtroppo ultimamente non sono riuscita ad usare molto i questi in crema no non lo so come mai tante se le mettono solo nella palpebra mobile e poi si muovono di lì e io invece non sono riuscita non riesco molto bene a fare questa cosa ora mettiamo questo tipo così e poi ci diamo un altro più chiaro che secondo me lo dovevo mettere prima il più chiaro però ho disimparato a truccarmi perché comunque non facendo sì mi trucco però anche quando esco io mi do il marrone marrone chiaro e via cioè nel senso non sto più a fa quei po po di trucconi favolosi e io amavo e non riesco a mettermi le cilia finte un mio dio questa cosa gravissima e poi si prende la super venus vediamo se riprendo lo stesso pennello di prima e prendiamo questo colore qui qui ci voleva quella lì di cioccolata bianca per la palette lì ci voleva che c'ha quel viola allora mettiamo questo che dovrebbe essere un colorino un po più chiaro questi colori pigmentatissimi cioè un mio dio manto e cerchiamo di spostarlo un po più sopra rispetto a ora vi dico un aneddoto proprio successo ieri sera che si era a letto tipo alle 4 di notte e si è cominciato a sentire berciare che secondo berciare nel senso era un animale però io non non sono riuscita a comprendere se era un gatto qualsiasi cosa fosse che povera bestia secondo me stava era mangiato da un'anima più grande insomma un po' le parole allora vediamo se riesco a sfumare qua sopra la mancanza di acquisti veramente mi sta facendo diventare pazza ok prendiamo questo mi sta facendo diventare altremodo pazza cerchiamo di e mi manca comprare ragazzi da morire però vabbè purtroppo le cose economiche io penso non avrete visto una minchia finora però le nostre finanze economiche sono queste quindi tanto ascoltate bimbe io la roba per truccarmi ce l'ho nemmeno in 40 vite la finisco tutta anzi forse questa è la volta buona e comincio ad usare tutto però qual è il problema? che qua non mi c'entra tutto il problema è quello ora sempre con questo qui un po' più piccino si prende music è questo qui anzi lo voglio mettere prima con un pennello più fino e poi con un più grosso e vediamo che viene fuori ed è questo c'è la venus bella nuova che ora mi è uscita tantissimo è bellissima ho visto un rossetto della smashbox grigio e uno viola che oh mio dio però non mi posso di certo permetterli non prendo neanche i pochi soldi che prendevo con youtube perché giustamente non facendo più video non ne prendi più io spero che vi vediate ma dubito alquanto ora si dà anche un pochino sotto e questa storia delle cilia finte mi sta uccidendo non so perché non riesco più a metterle non so se è una pistione di boh della colla della essence che ora è uscita quella nuova e secondo me non fatemi sapere se secondo voi ha la stessa pigmentazione di quell'altro ma secondo me no e penso sia qui si suda comunque penso sia per quello che non riesco più a truccarmi però ora gli si dà di questo che è strascurissimo proprio un mio dio e non riuscendo più a mettere le cilia finte ho cercato di arrangiarmi con i mascara e ora vi faccio vedere il trio mascara che ho trovato che devo dire che mi piace moltissimo spero che si veda qualcosa altrimenti ve lo metto uguale mi sentite parlare e spero che l'ho già detto spero si veda qualcosa e niente ora farò qualche acquistino su aliexpress sempre se riesco perché c'è dei dupe favolosi ok non è avvenuto proprio quello che volevo però accontentiamoci e mettiamo tipo sopra questo qui che è un tipo panna che ora ne ho mille di color panna però momentaneamente questa è buona anche se secondo me è molto meno pigmentata di quell'altra che c'avevo è la stessa nel senso queste le trovate su ebay a un euro veramente niente una miseria a un euro e 20 però quella che c'avevo vecchia secondo me io devo aver poggiato la segretta da qualche parte speriamo di no e le trovate insomma poi ho visto che lascevano tante anche su youtube quindi lavorare ho lavorato queste state però purtroppo penso che poi vabbè ve lo dirò adesso vediamo se mi rinnoveranno meno il contratto perché purtroppo non c'è non c'è molto bisogno però vediamo dai allora questo era un pennellino di pelle che ci avevo messo non so che cosa ora lì ci si rimette il viola madonna ma questo viola si sbriciola tutto tipo come fosse ombretto cioè il mio amore è fuori con ax e fin qua basta e ora mettiamo per completare all'interno lo sbrilluccichio di questi anzi il panna allora si mette questa qui non so se ve la ricordate ma si vede tipo te vedi una sega di questi si vede ve la ricordate questa non mi ricordo dove l'ho presa chavo da fa pure si ho finito i 70 euro mi aveva dato bangod ma non l'ho fatta e so tutti chiari quindi noi si mette questo qui qua e non l'ho fatto quindi ora vediamo se me le ridarà quando magari il problema è non avere il computer non è neanche i video perché i video se mi impegno li vado a mettere a casa il problema sono tutte le mail, le vostre risponde pure a commenti e questo è fatto è finito ora però non comincia dai l'ho fatto si è tardi e poi ci si mette questo qui che è sbrillucioso a bestia tutta colpa mia ragazzi mi metto freccia no dai ho finito sono sette e mezzo ho finito bisogna farcela vi faccio vedere poi ho finito uno due e tre mi metto questi due quindi ho uno questo e poi questi due che so quelli della S il multi action e il long lashes che so favolosi anche se poi da soli non hanno questa grande resa vi faccio vedere vi metto questo perché si fa un po' prima con questo ve lo fa vedere che viene fuori ora lui mi guarda perché dice si fa la faccia quando ha visto si fa così questo già da sé è buono non è male però siccome io ero abituata a portare le ciglia finte io voglio delle ciglia illegali come dicano a parte il riprovato dei mascara vecchi della Maybelline che fanno ride polli veramente cioè come fai a vendere una cosa del genere ora me le metto da tutte e due le parti e poi spero sempre che vediate poi una volta passato questo che questo mi è piaciuto l'ho presi due c'ho già uno da avviare a casa e poi si mette il multi action che è questo mentre quell'altro c'ha le fibre però da soli non fanno questo effetto parecchio parecchio parecchia gola ora ve lo faccio vedere mi manca comunque il trucco mi manca tutto ciò che fa parte del make up e mi mancate voi ragazze comunque sia anche se dovessi mettere video come vedete non riesco sempre a rispondere e a stare dietro a commenti a me questa cosa non piace lo sapete amore mi sto mettendo il mascara va finito però purtroppo così ora si sta guardando di queste pennine è che non prende niente prende la linea normale però a quel punto devo informarmi se avendo la linea normale spendo quante con il cellulare a quel punto non riesci neanche a mettere video perché se no le potrei mettere dal cellulare non li fa mettere quindi se ci devo avere la linea normale tanto ora che l'ho detta a loro loro sanno tutto quindi allora si deve provare a parlare con quelli della terra e cabati ma a mettere cabati lo avevo a casa e mi sa che e qui c'è le fibre aspetta guardate come le le infloppa flop flop poi per truccarmi mi devo mettere fuori dalla finestra quindi quelli che passano dicono già questa è scema poi abbiamo messo uno specchio che poi vi farò vedere quando vi fa vedere la casa ha favoloso con le luci e se per l'appunto ho trovato pure la spazzatura però ancora le luci non ce ne ho messe e ci voglio mettere sotto una scrivania tipo dell'Ikea o di modo convenienza di quello che cazzarola è di modo che metto tutto lì sopra perché così ho tutta l'aria infusa e non ci giappo vai basta passano cavalli vai dentro dai col cane mi fa fa paura eccola qua vedete se così sono un po' più distanziate se invece ci metti questo a farfalla sono un po' più flop flop ora questo poi lascio qui dunque blush e se è finito tanto il resto della base l'ho fatto non ve l'ho fatto vedere perché tanto vi farò la base questo qui amore ho finito che è bellino bellino e come rossetto mi si dà questa matita della Wicon anzi questa qui questa qui che è della pupa la 04 quella che mi carbava un sacco però le matite ora io non c'ho il primer non mi regano una sega ecco mi si rompere pure tutte le punte guarda belli hanno acceso anche le lampade vi faccio vedere passa un carretto col cavalli che con attraverso l'ho di tipo Caldana Beach la gente viene a vedere Caldana col carretto sei impaurita la cittina? oi oi stiamo a battere nel muro amore metti dentro il cane e mi apri se ho chiudo fuori oi oi senta finish abbiamo finisciuto ora tanto mi fa la presentazione la devo fare tanto mentre si va bene non ve l'ho fatta a vedere perché sennò fa tardi quindi pensando di farle l'intro che poi non fa io vi mando un bacio spero sia venuto bene fatele brave ci rivediamo presto perché sto sicura che ciao a voi vi saluto al mio amore ciao 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 Grazie.